Salve a tutti amici dal vostro Corro Desposito Personal Trainer Parliamo di Mr. Olimpia, Mr. Olimpia Story Perché? Perché ragazzi chi mi conosce sa che io sono sempre stato un grande appassionato Anche sugli altri miei canali, per chi mi segue anche sulla Formula 1, sul calcio, sulla MotoGP Io sono sempre stato molto appassionato della storia di questi sport Perché per me per capire quello che c'è stato prima e quello che c'è oggi Devi comunque informarti e apprendere la storia Quindi Mr. Olimpia, per chi non lo sapesse, è la competizione più importante della storia a livello di bodybuilding agonistico Quindi i migliori fisici, i migliori campioni della storia si sono visti sul palco del Mr. Olimpia E' una competizione che si svolge dal 1965, ha visto tantissimi campioni alternarsi E quindi è davvero una competizione spettacolare Dove il bodybuilding, quello proprio mostruoso, quello delle masse fuori di testa Si ritrova ogni anno per decidere chi è il miglior fisico al mondo Oddio, non è sempre stato così, adesso lo vedremo in maniera molto veloce Poi se questi format storici vi piacciono, ieri abbiamo fatto quello di Sergio Oliva Ne faremo altri, chiaramente faremo i vari Mr. Olimpia, le varie annate, parleremo di storia Io ho conosciuto di persona Ronnie Coleman, Jay Cutler, vi farò vedere anche quelle foto, quei momenti, bello Prima di partire, come al solito, iscrivetevi a questo, agli altri canali che ho Se vi interessa, nei commenti, alla prima riga della descrizione trovate un link Se volete donare su PayPal per aiutarmi a fare beneficenza Ogni mese invieremo dei soldi a un unente di beneficenza Tutto quello che raccoglieremo e vi ringrazierò in tutti i video, su tutti i canali Scrivendo nome e cognome senza la cifra donata, vi ringrazierò Quindi, è molto importante per me Come al solito, iscrivetevi a questo e lasciate un like a questo canale Allora, il primo vincitore di Mr. Olimpia fu Larry Scott Larry Scott vinse nel 65 e nel 66, le prime due edizioni Ed era un ottimo atleta, aveva delle braccia enormi Fu un atleta davvero importante, però un po' incompleto Anche perché poi già Sergio Oliva, che arrivò nel 67, era di un altro pianeta Sergio Oliva, che vinse il Mr. Olimpia nel 67, 68 e 69 Era un atleta di livello mostruoso E ripeto, in proporzione anche oggi sarebbe un atleta eccelso Fisico statuario, circonferenze assurde, un corpo mostruoso Bellissimo Nel 70 iniziò il filotto di vittoria di Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger aveva sì un grandissimo fisico Però, se andiamo a valutare, ragazzi, probabilmente non era superiore a Sergio Oliva Comunque gli fecero vincere il titolo parecchie volte Vinse dal 70 al 75 Quindi sei titoli consecutivi Ricordiamo che lui già nel 74, dove presentò la sua miglior forma Nel 74 Schwarzenegger si presenta con un fisico mostruoso Perché? Il fisico più pesante di sempre, per quanto lo riguarda Muscoli enormi Vinse quel Mr. Olimpia E dichiarò che si voleva ritirare Poi cosa accadde? Il regista George Butler disse Sai che vogliamo fare un documentario Un film documentario sul bodybuilding Però c'ho bisogno di un protagonista di alto livello Come sei tu E quindi devi fare almeno un altro Mr. Olimpia Schwarzenegger si riprepara per il Mr. Olimpia 75 Doveva competere con Lou Ferrigno Colui che diventerà l'incredibile Hulk Successivamente con Sergio Nubre Quindi due atleti di livello mondiale Anche se non hanno vinto mai il Mr. Olimpia Arnold vince anche quell'edizione E là comunque si vedeva che Schwarzenegger Era superiore a questi altri atleti Non di tantissimo, per esempio, su Sergio Nubre Ma lo era Quando si ritira Arnold? Effettivamente il 75, il 76 è l'anno di Franco Columbo Effettivamente Franco Columbo, ragazzi, aveva un fisico eccezionale Era piccoletto, basso Ma aveva delle forme, delle rotondità enormi Cioè una schiena incredibile Un petto mostruoso Vince quel Mr. Olimpia Poi Columbo che fece Avrebbe potuto iniziare un filotto di vittoria molto importante Purtroppo il destino ha voluto Che si infortunasse Perché andò a partecipare con Lou Ferrigno Mi sembra la primissima edizione dello Strongman World Strongman Strongest Man Cioè l'edizione di quelli che fanno i sollevamenti delle macchine Dei pesi Delle palle di pietra Le cose assurde E Columbo Mentre trasportava sulle spalle un peso molto grande Si spezzò proprio la gamba E là si fermò per tanto tempo E diede libera uscita Libera Strada libera A Frank Zane Frank Zane vince 3 Mr. Olimpia Dal 77 al 79 Beh ragazzi A me non piace Frank Zane Io vi dico la verità Per me in quell'epoca c'erano atleti migliori Alias tipo Robbie Robinson Per dirvene uno Zane era troppo piccolo Posso capire la definizione Posso capire la simmetria Ma Zane c'aveva le braccia più piccole delle mie Cioè era un atleta troppo sottodimensionato Anche per i tempi C'erano atleti per me migliori Nonostante tutto A Zane gli fanno vincere 3 titoli Con la scusa della simmetria della definizione Nel 1980 succede il primo scandalo Perché Schwarzenegger che si trovava a Sydney A Sydney dove si teneva il Mr. Olimpia Ufficialmente per fare il commentatore della gara Si iscrive alla gara vera e propria Giustamente Arnold che avrebbe dovuto girare Conan il Barbaro Poco tempo dopo dice Già che mi devo bombare e preparare per fare Conan Mi vado a fare pure il Mr. Olimpia E' un Arnold molto più piccolo di quelli che eravamo abituati a vedere Più magro Si definito ma con dimensioni molto esigue rispetto a quello che ha portato nei tempi d'oro Vince il Mr. Olimpia tra mille polemiche Batte Zane, batte Dickerson Batte soprattutto Mike Manzer che era diventato il suo primo nemico Manzer era un atleta più giovane di Arnold Era piccoletto ma aveva delle forme eccezionali per l'epoca Arrivò primo al Mr. Olimpia 79 Perché c'erano ancora le due categorie di peso All'epoca il Mr. Olimpia aveva i pesi massimi e i pesi leggeri I due campioni delle due categorie si sfidavano sul palco alla fine E uno vinceva il titolo assoluto Manzer era Mr. Olimpia a pesi massimi nel 79 Pensate era più basso di Zane pesava molto di più Pensate un po' Zane quanto era sottodimensionato Nell'80 lui è convinto di vincere il Mr. Olimpia Non lo vince e decide di ritirarsi Quando viene dichiarato Schwarzenegger vincitore Tanti atleti dicono che non si sarebbero presentati più sul palco Salvo per cambiare idea Manzer è stato l'unico che ha tenuto fede alla sua promessa E non ha gareggiato più Poi fondò Levi Dutti Un metodo di allenamento molto rude che ha fondato lui Però si ritirò Nell'81 la storia si è ripetuta Perché a Columbus praticamente negli Stati Uniti Franco Columbo torna a competere dopo 5 anni dall'ultima volta Non è che non sia in forma Franco Columbo Però soprattutto a livello di gambe Non avendole potute più allenare con la forza di prima Perché Columbo, faremo un video, era forse l'atleta più forte di quegli anni Era pazzesco Vince il Mr. Olimpia Però la vittoria è molto discussa Non c'è Zayn che in segno di protesta non partecipa a quell'anno E sostanzialmente ragazzi succede un putiferio Anche là si critica tantissimo Chi ha fatto vincere Columbo perché la vittoria pare che non sia meritata Però Columbo vince quel Mr. Olimpia Nell'82 vince Chris Dickerson Che negli anni precedenti era sempre arrivato secondo Chris Dickerson atleta di colore Ben fatto, bella simmetria Non era enorme ma era molto elegante Nell'83 vince Samir Bannut Il leone del Libano Perché Bannut cosa aveva di particolare? Era il sultano della simmetria Aveva una simmetria mostruosa Incredibile Aveva un fisico Quando stava in forma Perfetto Bei volumi Belle rotondità Il problema è che Bannut si presentava in gara sempre o poco tirato o troppo piccolo Ma principalmente non riusciva mai a raggiungere la forma migliore il giorno della gara Nell'83 ci riesce e si porta a casa l'unico titolo della sua storia Ma già nell'84 farà un flop clamoroso Non a caso nell'84 inizia l'epoca Lee Haney Lee Haney vince il mister Olimpia Dall'84 al 91 Facendo un filotto di vittorie Otto clamorose Che va a battere tutti i record Superando anche Arnold Beh Lee Haney all'epoca era il fisico migliore Però a me non piace Non mi piaceva le forme Non mi piaceva la simmetria Però comunque Era un fisico superiore a quello degli altri Ci hanno provato in tanti A batterlo Da I vari Lila Brada Rick Gasparri Però nessuno ci è riuscito Mike Christian Ce ne erano tanti all'epoca Nel 91 Haney vince l'ultimo mister Olimpia Ma si presenta sul palco Un certo Dorian Yates Che dall'Inghilterra Arriva e scompaggina tutte le situazioni Già nel 91 Si dice che Yates Meritava di vincere quel mondiale Non lo Eh quel mondiale Scusa Quel mister Olimpia Non lo vince perché Nel bodybuilding C'è tante volte stata politica E quindi è stato assegnato il titolo All'Ienei Ma che prende Scappa e non si presenta più Infatti dal 92 al 97 Il mister Olimpia Viene stravinto da Dorian Yates Che era un atleta mostruoso Aveva una schiena Di un livello Incredibile E come ampiezza E come dettagli Polpacci assurdi Era un atleta Superiore a quelli Che c'erano all'epoca E si cominciarono A affacciare nel circuito Agonistico I Kevin Lebron Gli Sean Ray Che già c'era da qualche tempo I Flex Wheeler Eppure Yates Non ebbe contrasti forti Vince tutti i mister Olimpia Bene Tranne l'ultimo Perché nel 97 Ebbe vari infortuni Tra cui anche ai tricipiti E Nasser El-Zombati Che aveva un fisico Simile al suo Per grandezza E per massa Rischiò di vincere Quel mister Olimpia Come al solito Il campione Vince l'Olimpia Anche perché È il campione Si ritira Nel 98 Bisogna eleggere Un nuovo campione Tutti credono sia Flex Wheeler Perché Wheeler Praticamente Cosa ha fatto È arrivato Secondo varie volte Al mister Olimpia Anche Kevin Lebron Ma Wheeler Ha un fisico Più completo In più Wheeler Ha una bellezza muscolare Una simmetria Di livello Mostruoso E tutti sono convinti Che vinca lui Ed invece Va a vincere Ronnie Coleman Relega Wheeler Al ruolo di Secondo Perché Coleman si presenta Con un fisico Eccezionale Definito Una schiena Superiore a quella Di tutti gli altri E vince il primo Mister Olimpia Il primo di ben 8 Mister Olimpia Wheeler Ci riprova nel 99 E non ci riesce A quel punto Coleman diventa imbattibile L'unica annata Molto sotto tono Di Coleman Nel 2001 Dove Coleman Si presenta Con veramente Un peso Ridicolo Quasi Sui 110 kg E tanti altri atleti Come Kevin Lebron Rischiano di vincere Quel mondiale Quel mister Olimpia Perché Coleman A quel punto Ragazzi È veramente Troppo piccolo Vince quel titolo L'anno dopo Decide di fare il contrario Nel 2003 È il Coleman Più grande della storia Io l'ho visto dal vero Praticamente Coleman si presenta Dai 100 quasi 10 kg Del 2002 130 E passa Del 2003 E stravince Altri Tre mister Olimpia Nel 2006 Jay Cutler Riesce a rovesciare Il regno Di Ronnie Coleman Jay si presenta In forma eccezionale È grosso Perde qualcosa Rispetto a Coleman Anche e soprattutto A livello di schiena Ma una forma Nel totale Eccezionale E batte L'8 volte campione Del mondo Che voleva fare Un nuovo record Campione del mondo Campione di mister Olimpia Perché comunque Mister Olimpia Se è anche il vero campione Del mondo Ronnie si ferma A 8 mister Olimpia Come l'Ienei Inizia l'epoca Jay Cutler Un'epoca molto travagliata Perché già nel 2007 Jay rischia di perdere Il titolo Contro Victor Martinez Che era un altro Atleto eccezionale Con delle rotondità Mostruose E a detta di tutti Meritava di vincere Quel titolo Nel 2008 Dopo aver vinto Il titolo 2007 Jay Si ripresenta Comunque Non al top Della forma E un anno Te lo fanno passare L'anno successivo Non glielo fanno passare Chi vince Dexter Jackson Dexter Jackson Che ho visto anche dal vero Era un atleta At Blade Che aveva una definizione Incredibile Si è sempre presentato Sul palco Con una definizione Bella Con dei muscoli Belli Sodio Rotondi E nonostante un peso Di oltre 20 kg Meno di Jay Cutler Riesce a vincere Però dura un solo anno Nel 2009 Jay Cutler È L'unico mister Olimpia Che perde Il titolo in gara E se lo riconquista Vince Jay Cutler C'è un secondo posto Per Branch Warren Che era uno Un po' piccoletto Ma molto tozzo E granitico Nel 2010 Jay vince L'ultimo mister Olimpia E arriva secondo Un certo Phil Heath Allora Phil Heath Era un atleta Non enorme Perché comunque Pagava sempre Quei 10 15 20 kg Rispetto agli altri Però era Un atleta Dalla schiena Insormontabile Da una densità muscolare Insormontabile E soprattutto Nei primi anni Anche da una definizione Incredibile Non a caso Phil Heath Affila un filotto Di 7 vittorie E non era facile Perché all'epoca Phil Heath Aveva preso Tante scopole Da Jay Cutler Al mister Olimpia Da Kai Greene All'Arnold Schwarzenegger Classic Che non aveva mai vinto Phil Heath Affila tantissime vittorie Fino al 2017 Dove vince Il settimo titolo Proprio come Arnold Schwarzenegger Ma è evidente Che il suo stomaco Disteso La sua pancia Gonfia Gli creeranno Dei problemi I giudici Lo redarguiscono Gli dicono Guarda Phil O ti metti a posto Con lo stomaco Oppure non ti possiamo Far vincere Il mister Olimpia Deve avere anche Un certo che di Contegno estetico E Phil Heath Sembrava incinta Non a caso Nel 2018 Viene ribaltato Da Sean Roden Sean Roden Atleta Un po' Sulla falsa riga Di Flex Wheeler Atleta Non enorme Ma bello da vedere Muscoli belli Una muscolatura Densa E molto Molto granitica Lo batte Sean Roden Già molto avanzato Di età Batte Phil Heath E purtroppo però Scoppia uno scandalo Di Sean Roden Nell'ambito Stupro Si dice Che lui Non si è mai capito Sta storia Purtroppo lui Non può partecipare Più al mister Olimpia E poi scompare E dispiace a tutti Perché Tutti quelli Che l'hanno conosciuto Dicevano Che era una persona Buona Nel 2019 Penso Uno dei mister Olimpia Più indegni Della storia Lo vince Brandon Curry Ragazzi Brandon Curry Fermatevi proprio C'è un atleta Che innanzitutto C'ha solo metà corpo Parte superiore Eccellente Parte inferiore Inutile Inesistente Non c'ha le gambe Minimamente Ma poi All'epoca C'erano altri atleti Che potevano Vincere C'era Vabbè Non voglio dire Big Grammy Sta gente qua Però c'era C'era di meglio Non mi fate fare nomi C'era di meglio Lo stesso Adi Chupan Per me era meglio Da Brandon Curry Però Va così Gli ultimi due anni Il mister Olimpia È stato vinto Da Big Grammy Allora Big Grammy Che atleta è? È un atleta imponente È il più grosso in gara Oltre a essere abbastanza alto 1,80m Per Sempre quei 130kg di muscoli Più o meno in gara È un atleta Che oggi come oggi Sta dimostrando La sua superiorità Perché ha un bellissimo fisico Ha muscoli enormi Però Comunque con un'estetica decente Un addome decente Un addome in controllo Non ha quei Bubble gum Di panzoni Che c'avevano altri atleti Quindi È chiaro che vi dico Ragazzi Anche quest'anno Io penso che Big Grammy Big Grammy Sarebbe il È il Favorito numero uno Perché a meno che Non si presenta fuori condizioni Il titolo non lo perde Non è vecchio C'è la stessa età mia 38 anni Quindi nel bodybuilding Sei giovane E puoi continuare Vedremo quanto avrà voglia Di continuare A fare il bodybuilder Certo che ci sta gente Come Nick Walker Adi Chupan Ci stanno i pericoli Però ragazzi Se non si presenta fuori forma Non lo perde il titolo Quindi Spero vi sia piaciuto Questo Olimpia Story Ci vediamo nei prossimi video Il vostro corredesposito Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi